Ecco un nuovo video dedicato a Fall Guys. Parlerò di due argomenti. Il primo riguarda il nuovo spettacolo, evento in arrivo, cioè la missione di riparazione delle satellite. E il secondo argomento riguarda la seconda stagione in uscita breve, nello specifico la data di uscita. Inizio subito con l'evento in arrivo. Se apri Fall Guys e vedi fra le ultime notizie, troverai il banner che ti mostro nel video. Come puoi leggere c'è scritto. Riparazioni del satellite necessarie. In arrivo il satellite è in pericolo. Aiuta l'operatore a effettuare le riparazioni necessarie raccogliendo i pezzi del satellite perduti nel nuovo spettacolo, missione di riparazione del satellite. Collabora per raccogliere abbastanza pezzi del satellite e l'intera community otterrà ricompense. Entriamo nel dettaglio. L'evento inizierà l'8 settembre e terminerà il 13 settembre. Avrà varie sfide e ricompense. Per facilitare il tutto ho fatto una piccola tabella che stai guardando mentre parlo. Ho elencato tutte le sfide e le ricompense e non mi indilungo su queste. Se hai domande scrivile nei commenti. Questi sono i guanti che si potranno avere come ricompensa finale dello spettacolo. Anche se la natura completa di questo evento non è ancora nota ci si aspetta che sarà probabilmente facile da completare. La missione di riparazione dei satelliti ha solo una ricompensa di 5 frammenti di corona per ogni vittoria il che suggerisce fortemente che ci possono essere più vincitori nella stessa partita. Ora passiamo alla seconda stagione di Fall Guys. Come anticipato nei precedenti video si vociferava che doveva esserci un evento in arrivo a settembre che è questo dei satelliti al termine del quale finalmente dovrebbe arrivare la nuova stagione di Fall Guys. Rimangono notizie non ufficiali ma la data stimata in cui dovrebbe cominciare la nuova stagione è il 13 settembre al termine dello spettacolo missione di riparazione dei satelliti o al massimo nelle ultime ore dei miei fondi riportano anche la data 15 settembre 2022. Quindi ricapitolando la data in cui aspettarci l'arrivo della seconda stagione oscilla fra il 13 e il 15 settembre. Il tutto naturalmente da confermare per le vie ufficiali. Se ti è piaciuto il video lascia un like, commenta e fammi sapere cosa ne pensi. Se non lo hai già fatto iscriviti al mio canale youtube GioGamer87. Ciao e al prossimo video.